Le spese che devi affrontare quando compri una casa sono essenzialmente di due tipi. I costi, quindi per esempio l'agenzia immobiliare o il notaio, e le tasse obbligatorie sull'acquisto di un immobile. I costi variano più o meno in percentuale in base al prezzo dell'immobile che stai acquistando, mentre le tasse, oltre a questo meccanismo, variano anche in base al tipo di compravendita che stai effettuando e, come vedremo più avanti, possono cambiare se stai comprando un immobile di stampo popolare, civile oppure di lusso. Fatte queste dovute premesse, partiamo con i costi. Prima di andare avanti, però, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video e commentare qui sotto se avete domande o volete condividere la vostra esperienza. Il notaio. Non c'è un tariffario vero e proprio per quanto riguarda i notai ed è stato abolito nel 2012, ma possiamo assumere che per prezzi fra i 100 e i 200 mila euro il notaio prenda una parcella pari all'1% del prezzo. Questa è una media, ovviamente può variare da città a città, da notaio a notaio, i notaio possono fare degli sconti, potete negoziare sulla parcella che percepisce il notaio e quindi non è una regola. C'è anche da dire che man mano che il prezzo sale, la parcella del notaio in percentuale si riduce. Infatti, quando ci sono atti o rogiti di un milione, un milione e mezzo, due milioni, ovviamente il notaio non chiede 20 o 25 mila euro, ma magari si attesta sui 5, 6, 7 mila euro. Quindi, man mano che il prezzo si alza, il notaio tende a ridurre la percentuale della sua commissione. Dobbiamo però fare attenzione a due dettagli. Il prezzo che riceviamo dal notaio quando chiediamo un preventivo, nel 99% dei casi, include anche le tasse. Quindi, il notaio vi dice, ok, l'importo è 5 mila euro. Spesso in età non specificano neanche quanto di questi 5 mila euro sia la parcella, quanto siano le tasse, però lo potete chiedere. Potete chiedere che vi sia fatto un preventivo dettagliato, in modo che potete vedere quanta parte di quello che dovete pagare sono effettivamente le tasse, dove purtroppo non si può negoziare, quindi è un costo che dovete pagare, e quanta invece è la parcella del notaio, dove magari potete anche chiedere uno sconto, o fare dei confronti con altri professionisti della zona. Un altro particolare che dovete tenere a mente è che, se dovete acquistare con un mutuo, il notaio dovrà fare due atti, un atto per l'acquisto e un atto per il mutuo. Infatti, nel mutuo la banca vi dà del denaro, e c'è proprio un rogito dove la banca vi concede il denaro, in cambio di una prestazione da parte vostra, che è il pagamento della rata. Nel caso di acquisto con mutuo, quindi, il prezzo del notaio sarà più alto, ma non perché sta cercando di fregarvi, ma perché deve fare due atti distinti. Anche nel caso del mutuo, più o meno, possiamo dire che la media è intorno all'1% del valore di mutuo, quindi non del prezzo di acquisto, ma del valore che la banca vi deve concedere come mutuo. Passiamo quindi all'agenzia immobiliare, il capitolo preferito di tutte le persone che devono comprare casa. Quindi, quanto costa l'agenzia immobiliare? Quanto devo pagare alla gente e posso negoziare sul prezzo che mi viene detto? Anche in questo caso, come per il notaio, non c'è un tariffario, non c'è una legge, quindi ogni agenzia è libera di applicare la percentuale che preferisce. E c'è anche la libertà di negoziare la percentuale di provvisione. La media nazionale si attesta intorno al 3% di provvisione sul prezzo pattuito. Quindi, se stiamo comprando una casa a 100.000 euro, la provvisione che dobbiamo pagare all'agenzia immobiliare sono 3.000 euro. L'agenzia immobiliare percepisce una provvisione anche dalla parte venditrice. E a seconda delle zone, delle città e delle usanze in voga in quella regione, la percentuale del venditore può essere più alta o più bassa rispetto a quella dell'acquirente. Ma questo sta sempre un po' alle dinamiche del mercato. Di solito, dove c'è tanta offerta di immobili e pochi acquirenti, i venditori pagano una provvisione un po' più alta. Dove invece c'è poca offerta di immobili, ma tante persone che vogliono comprare, sono gli acquirenti che pagano una provvisione più elevata, mentre i venditori scontano una commissione più bassa. C'è anche da dire che la maggior parte delle agenzie, sotto una certa soglia di prezzo, applica una cifra fissa. Può essere 3.000, 4.000, 5.000, a volte anche 6.000 euro, e le soglie potrebbero essere al di sotto dei 100.000 o al di sotto dei 125.000 euro. Per chi acquista con il mutuo, invece, dobbiamo considerare anche i costi connessi all'erogazione del finanziamento bancario. Il primo è sicuramente l'istruttoria, di solito pari all'1% del valore di mutuo che viene concesso, con un minimo di 8-900 euro a seconda delle linee guida della banca con cui stiamo lavorando. Dopodiché, oltre a questo, c'è la perizia, quindi il tecnico che viene inviato dalla banca e ha un costo tra i 250 e i 400, massimo i 500 euro. E, infine, l'imposta sostitutiva, che è una tassa. Ora, l'imposta sostitutiva ha un comportamento un po' particolare, come vedremo anche per le altre tasse che gravano sull'acquisto di un immobile. L'imposta sostitutiva standard è il 2% del valore di mutuo. Se però stai acquistando una prima casa, la legge ti consente di scontare un'aliquota agevolata. Infatti, invece che il 2%, andrai a pagare lo 0,25%. Ovviamente è un risparmio importante. Quindi considera bene di acquistare utilizzando le agevolazioni prima casa, se ne hai la possibilità. L'imposta sostitutiva ci dà lo slancio per cominciare a parlare delle tasse, che è l'argomento di cui tutti abbiamo paura, ma se rimani ancora qua qualche minuto, capirai che in realtà non c'è molto da aver paura, se sai come andarla a calcolare e puoi essere sicuro di non aver problemi in futuro. Le prime tasse che devi pagare quando compri un immobile riguardano la registrazione del contratto preliminare. Infatti, quando acquisti una casa, ci sono due step principali. Il primo è il contratto preliminare, che è un contratto ad effetti obbligatori, quindi non c'è il trasferimento vero e proprio della proprietà, ma la parte venditrice e la parte acquirente si obbligano a fare questo trasferimento in un momento futuro. Registrare il contratto preliminare è obbligatorio e questi che andiamo ad elencare sono i costi che devi sostenere. Innanzitutto 200€ quota fissa per registrare un contratto. Poi ci sono marche da bollo da 16€ per ogni 100 righe di contratto o ogni pagina di contratto preliminare e, se è stata pagata una caparra, lo 0,5% del valore versato di caparra. Nel caso in cui si tratti di un deposito prezzo, che ai fini legali ha un funzionamento un po' diverso, l'importo che devi pagare all'atto della registrazione del contratto è il 3% del deposito. Alla fine arriviamo alle tasse che riguardano l'atto definitivo, quindi le tasse quelle un po' più corpose, un po' più importanti, che andiamo a pagare quando si compra un immobile. In questo caso il discorso si fa un po' più articolato, ma se mi seguirai con attenzione ti assicuro una fotografia chiara della situazione. Dobbiamo innanzitutto distinguere due filoni principali, gli atti soggetti ad IVA e gli atti non soggetti ad IVA. Come facciamo a riconoscerli? Allora, l'atto in cui viene applicata l'IVA è quello dove l'acquirente compra da una ditta che ha costruito negli ultimi 5 anni. Quindi se la ditta ha costruito negli ultimi 5 anni viene applicata l'IVA. Se la ditta ha costruito prima dei 5 anni da quando noi stiamo comprando, niente, non viene applicata l'IVA. Attenzione anche perché non a tutte le ditte viene applicata l'IVA, solo alle ditte costruttrici, cioè quelle che per lavoro costruiscono le case per venderle. Quindi se una ditta ha costruito una casa ma che era un bene strumentale, quindi non l'ha costruita con l'obiettivo di venderla, non è una ditta costruttrice, quindi non ha nell'oggetto sociale la costruzione di immobili per la vendita, non viene applicata l'IVA. Quindi l'IVA in definitiva viene applicata in alcuni casi specifici, quando c'è una ditta costruttrice che vende. Gli atti soggetti ad IVA hanno la seguente tassazione. 200 euro fissi di imposta ipotecaria, 200 euro fissi di imposta catastale e 200 euro fissi di imposta di registro. Dopodiché viene applicata l'IVA. L'IVA segue le aliquote normali che vengono applicate su tutti gli altri prodotti. Quindi nel caso di prima casa viene applicato 4% di IVA, quindi bene di prima necessità, bene essenziale, 4% di IVA, IVA agevolata. Nel caso invece di seconda casa viene applicato il 10% di IVA, quindi non è più un bene essenziale e viene applicata l'aliquota al 10%. Nel caso invece andiamo a comprare un immobile di lusso, l'IVA sale fino al 22%. Andiamo invece a vedere i casi in cui si paga l'imposta di registro. Nella maggior parte dei casi la compra-vendita sarà esente IVA, a meno che, come abbiamo visto, non si vada a comprare da un'impresa costruttrice che ha costruito quella casa negli ultimi 5 anni. Negli atti esenti IVA ovviamente l'IVA è 0, però aumenta molto l'imposto di registro. L'imposto di registro infatti è il 9%. In questo caso possiamo decidere se applicare il 9% sul prezzo di acquisto oppure sul valore catastale. Magari su questo meccanismo, quindi sul meccanismo del prezzo-valore, farò un video specifico perché è molto importante da comprendere. Per ora ti basta sapere che nella maggior parte dei casi è conveniente applicare l'imposto di registro sul valore catastale. Uno, perché solitamente il valore catastale è più basso del valore d'acquisto dell'immobile e due, perché è più sicuro, infatti ci evita qualsiasi tipo di accertamento da parte dell'agenzia delle entrate. Oltre a questo c'è da pagare l'imposta ipotecaria e catastale. L'imposta ipotecaria e catastale sono di 200€ ciascuna. Nel caso però riusciamo ad accedere alle agevolazioni prima casa, la tassazione diminuisce sensibilmente. L'IVA rimane sempre 0 perché è un'attesente IVA. L'imposta di registro diventa il 2%, sempre da calcolare sul prezzo o sul valore catastale, ma in questo caso anche il calcolo del valore catastale è più agevolato, è più basso rispetto ad un acquisto di una seconda casa e l'imposta ipotecaria e catastale si abbassano a 50€ ciascuna. Facciamo infine un piccolo esempio per capire come farci da soli un preventivo per capire quanto andiamo a spendere sull'acquisto dell'immobile che ci piace. Supponiamo che la nostra casa costi 120.000€. Il notaio sarà circa l'1% del prezzo di acquisto, quindi 1.200€, a cui dobbiamo sommare le spese che farà il notaio nell'ambito delle visure che dovrà fare per l'immobile. L'agenzia potrebbe essere circa 3.600€ più IVA perché è il 3% di 120.000€. Come abbiamo visto alcune agenzie potrebbero applicare delle aliquote fisse, quindi 3, 4, 5 mila euro al di sotto di una certa cifra. La registrazione del contratto preliminare tra marche da bollo, quota fissa e percentuale della caparra, 250-300€ dovrebbero sicuramente bastare. E infine andiamo a vedere quello che pagheremo a livello di tasse. Supponiamo che il valore catastale dell'immobile sia 100.000€ e che noi dobbiamo acquistare una prima casa, quindi possiamo sfruttare le agevolazioni. Come abbiamo visto ci conviene applicare l'aliquota della tassazione di registro sul valore catastale e non sul prezzo d'acquisto, innanzitutto perché il prezzo di acquisto è più alto, 120.000€ contro i 100.000€ di valore catastale, e 2 perché in questo modo evitiamo qualsiasi accertamento da parte dell'agenzia delle entrate. Quindi 2% di 100.000€ di valore catastale, 2.000€. Consideriamo anche l'imposta catastale e ipotecaria, 50€ ciascuna, e arriviamo ad un totale di 8.242€. Se dobbiamo aggiungere anche un mutuo, supponiamo un mutuo all'80%, quindi circa 100-105.000€, abbiamo l'istruttoria, 1.000€, la perizia, circa 300€, l'imposta sostitutiva, 250€, e l'atto di mutuo presso il notaio, quindi 1.000€. Attenzione però che chi ha meno di 36 anni può accedere a delle agevolazioni dal punto di vista fiscale. Infatti chi ha meno di 36 anni, un ISEE inferiore a 40.000€ e sta comprando una prima casa, non paga nessuna tassa. Infatti queste persone sono super fortunate perché non pagano la tassa di registro, non pagano l'imposta ipotecaria e catastale, e non pagano nemmeno l'imposta sostitutiva sul mutuo. Queste agevolazioni sono state prorogate dal governo Meloni fino alla fine del 2023, quindi attenzione, se avete meno di 36 anni, avete delle agevolazioni importanti anche per tutto il prossimo anno. Spero che questo video possa esservi utile per capire quali sono i costi quando si compra una casa, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!